buongiorno buongiorno e buon martedì 29 novembre per me il giorno del tartufo ma mancano 36 giorni 5 ore 30 minuti al 4 gennaio 2023 ore 12 30 quando i ragazzi entreranno in campo allo stadio arechi di salerno per salernitana mina dicevo oggi il giorno del tartufo invidiatemi una volta l'anno sono invitato dal mio amico teo costa a castellinaldo nel roero in piemonte per la mangiata di tartufo vi ho già mandato su instagram le immagini fortunate di una bella spolverata di tartufo e sono ospite loro e ormai da più di vent'anni diventa una giornata simbolica perché il tartufo il profumo del tartufo vorrei trasmetterlo oggi vi manderò un video ma con chi sono di fianco oggi eccolo qua il mio ospite non è una persona è questo è un piatto che è in casa mia dal 1979 lo metto un po' di video che ve lo mostra da vicino qua su questo su questo piatto ci sono le dieci formazioni che hanno regalato la stella d'oro al sulla maglia del milan al club rosso nero a partire da quella del 1901 1 presidente edward alfred allenatore erber kilpin con alison angeloni colombo davis gadda hood kilpin lis negretti recalcati suttea per venire all'ultima quella della stella 78 79 presidente felice colombo allenatore nil slidon albertosi antonelli baresi betby gomboldini buriani capello chiodi collovati devecchi maldera minoia morini novellino rigamonti rivera e bocca sartori a proposito c'è antonelli e questa sera alle 18 un'intervista in esclusiva sul mio canale youtube a luca antonelli che ha chiuso la carriera ormai ancora per tre giorni mi ha detto che non è un ex giocatore chiuderà il primo dicembre il contratto con i miami e mi ha dato un appuntamento ovviamente abbiamo l'appuntamento questa sera per tutti voi per l'intervista ma mi ha detto vecchio cuore sono a londra ci vediamo là per tottenham milan luca antonelli sarà anche lui a londra vecchio cuore signori questo è il piatto del decimo scudetto il piatto della stella ho detto che mancano 36 giorni 36 giorni alla ripartenza 36 giorni per cercare che i ragazzi mi regalino il secondo piatto ci saranno l'ultima era stata quella del 70 del 78 79 e ripartiamo da quello dell 87 88 il primo di sacchi e poi via 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 dieci scudetti voglio ragazzi che mi regaliate il secondo piatto impossibile l'impresa non è impossibile l'impresa chiaro che abbiamo davanti il napoli quando hai davanti una squadra devi aiutarti tra virgolette anche l'altra squadra però io spero proprio che l'obiettivo che si sono dati anche i dirigenti di vincere la seconda stella al più presto possa essere un obiettivo raggiungibile i ragazzi sono forti mi dispiace ma è sempre capitato così mi ricordo che ai tempi di fabio capello invece di gustarsi in milan che già marzo aprile aveva ipotecato lo scudetto già allora ci si chiedeva ma chi compriamo il prossimo anno io dicevo ma gustiamoci che stiamo vincendo il campione no 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 ma chi compriamo il prossimo anno il mercato ricordo ricordo nesta tutti a parlare di nesta vogliamo nesta vogliamo nesta e poi nesta è arrivato lui costa tutti a desiderare lui costa o claren zedoff la delusione quando è arrivato pirlo ma è una presa in giro pirlo all'inter faceva fatica addirittura è stato spostato all'alas in avanti e poi invece arrivò zedoff queste attese di questi grandi grandissimi campioni slatani braimovic lo disse la prima volta verso sembra fosse il 18 agosto o il 20 primi di insomma intorno al 20 agosto al trofeo berlusconi e dopo una settimana adriano gagliani ci regalò anche questo campione ma ci sono giocatori che proprio vengono desiderati adesso pensare che dopo aver desiderato nesta a dopo aver desiderato lui costa dopo aver desiderato i grandi campioni che potessero rafforzare il milan adesso ci si brami per l'arrivo di ziek il contrasto è un po forte ma io vi invito a concentrarci sul secondo piatto il milan il milan dei dei megnan il milan del calabria tomori caluno luteo hernandez benasser tomori tomori benasser tonali scusate messias o se le vekers diaz o de chetelare leao giru o ibra origi questi sono i nostri i nostri giocatori e questi giocatori dobbiamo sperare che ci regalino questo grande trionfo signori milan ha vinto il campionato qualche mese fa e c'è differenza forse tra noi che agonita bramavamo vincere lo scudetto della stella perché l'avevamo vinto il nono nel 67 68 e poi tutti gli anni successivi sfioravamo sfioravamo c'è stato proprio una passione dentro per questo scudetto della stella incredibile noto che sì c'è la voglia di vincere lo scudetto della stella ma avendo vinto recente qualche mese fa c'è forse meno così me la meno attesa per lo scudetto della stella ma vi assicuro che quando vinceremo la seconda stella sarà un momento ve lo assicuro e vi garantisco che lo sentirete così forte perché sarà un momento storico signori nel 1901 il milan ha vinto il primo campionato sono passati da allora 121 anni 121 anni e saranno 122 nel 2023 e portare a casa questo trofeo è un momento storico perché mi auguro che nei prossimi 30 anni il 79 80 nei prossimi 43 anni il milan possa vincere altro il terzo la terza stella non sarà facile magari riusciamo a fare un filotto come la juventus e già nel 2000 e 32 33 34 abbiamo la stella terza però direi che non sarà una impresa così facile mentre la seconda stella è lì vicina e io proprio sono contento che pioli e i suoi ragazzi puntino maldini ha detto voglio la seconda stella paolo maldini paolo maldini quando il milan ha vinto la seconda stella lui è del 68 aveva 11 anni e forse ricorda anche l'emozione del papà che era stato allenatore o collaboratore in quegli anni turbolenti quando il milan sfiorava lo scudetto della stella senza mai riuscire a vincerlo e allora ricorda ecco perché per paolo maldini vecchio cuore sa il significato di questa vittoria questo piatto me lo tengo spesso vicino esotericamente esotericamente signori voglio che questo piatto sia nelle case non so chi lo farà se ci sarà il milan poi appena avremo diciamo conquistato magari andrò da milan e dirò signori bisogna fare un altro piatto come questo me lo faccio io piuttosto ma il ricordo è troppo bello un piatto non d'argento è un bel silver silver plate quindi non è argento puro però lo voglio voglio che questo è qui da 43 anni in casa mia e voglio mettermene un altro da da regalare a mio figlio da regalare alla mia famiglia perché questo piatto è lì avete visto il filmato dov'è sempre sul sul mobile davanti il fianco alla tv io mi siedo guardo la tv ma poi guardo a destra e vedo tutti forza mila dal 63 fino a quando purtroppo è cessata la pubblicazione mi sembra intorno al 2018 lì c'è il libro mi guarda la il volto sorridente di nordal mi guarda il volto sorridente di lidl ma miei idoli giovanili direi infantili infantili e c'è sempre questo piatto lì dentro c'è la storia degli ultimi 50 anni di milan e c'è questo piatto forza ragazzi regalatemi regalateci questo secondo piatto secondo piatto e ci saranno gli scudetti dal 1987 88 al speriamo 22 23 speriamo il napoli è forte adesso arriva la juventus ieri c'è stato come avete letto per chi non l'avesse letto è finita l'era di andrea agnelli si è dimesso come nedved come come tutto il consiglio di amministrazione quindi un momento di rivoluzione alla juventus vedremo se ne risentirà o meno sul piano della sul piano sportivo ma a noi non interessa per l'avremo come rivale indipendentemente da questo come l'inter e dunque il oggi ho voluto parlare proprio di questa emozione lo scude questo ve lo auguro di metterlo in tutte le vostre case magari fra qualche mese i ragazzi ce la possono fare io in questo momento non perdo energie per il mercato mi interessa concentrarmi sui miei ragazzi che dopo domani riprendono la preparazione ma ci sono giocatori che saranno già oggi e domani a milanello perché i ragazzi del milan sono seri e sono finalizzati a questo obiettivo stupire vincere e convincere stupire ed emozionare questo è il mio milan chiudo cari amici se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pellegati attivate la campanella ma speriamo di prenotare presto il secondo piatto della stella la seconda stella con gli scudetti dall 87 88 a vedremo ma noi siamo fiduciosi forza milan forza lotta vincerai non siamo vicini al campionato mancano 36 giorni ma dopo domani riprende la preparazione e io mi concentro su questo di recuperazione e io mi concentro su questo partimento questo partimento è un lavoro con il bisogno di capire e io mi concentro su questo partimento è un po d'heato